Dieci punti che vanno dalla forestazione urbana alla mobilità per dare un'idea di come Pescara può essere davvero più bella. Una volta tanto sono i cittadini a spiegare a chi ambisce a governare una città importante, come dovrebbero essere cambiate le cose e non il contrario. Le associazioni strada parco bene comune, cosa sono le nuvole, hanno convocato ieri pomeriggio i candidati al sindaco Domenico Pettinari e Carlo Costantini, assente perché non invitato Carlo Masci, poco incline, addetta a degli organizzatori ad ascoltare le stanze dei cittadini e decidere nel chiuso delle stanze di palazzo di città. Il fatto di governare nel chiuso del palazzo senza sentire e ascoltare i cittadini è sicuramente un elemento negativo di questa amministrazione uscente. Una forma avanzata e partecipata di democrazia volta al conseguimento del bene comune nell'esercizio dell'azione amministrativa, tenuta a precisare Maurizio Biondi, portavoce del comitato strada parco bene comune, l'impegno e la salvaguardia del non umano come unica soluzione utile per la salvezza del genere umano. Il riferimento è al patrimonio urbano che addetta delle associazioni non può continuare ad essere credito con progetti inutili come il filobus, sulla cui sperimentazione è stata sospesa per evidenti problemi difficilmente risolvibili, o la colata di cemento del palazzo della regione nell'area di Risulta, struttura che andrebbe ad attrarre come miele con le api, ulteriore traffico come se a Pescara non ce ne fosse già abbastanza. E allora l'alternativa qual è? Noi pensiamo, noi abbiamo proposto a questi candidati sindaci di realizzare una sorta di spina dorsale verde della città, lungo questa spina dorsale che si sviluppa dalla strada parco e che arriva fino all'area di Risulta della stazione, che diventa un'area appunto boschiva, verde, con strutture culturali, senza il palazzo della regione, che poi continui attraverso il fiume e arrivi fino all'area di Risulta, cioè allo scalomerci della ferrovia, che può diventare anch'esso una riserva di verde e arrivi fino alla pineta d'Avalos. Una relazione che contiene degli spunti che in prospettiva rappresenterebbero una svolta per Pescara e che in larghissima parte saranno ricepiti nel programma che stiamo perfezionando e definendo nella sua stesura definitiva. La questione ambientale è stata messa al centro, il processo di forestazione delle città, che è fondamentale per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici, è stata messa al centro e dal mio punto di vista rappresenta un aspetto fondamentale di qualsiasi persona voglia cimentarsi con l'amministrazione di una città così complessa come la città di Pescara. Quasi il 90% del nostro programma elaborato raccoglie già queste istanze, che sono istanze che parlano di ambiente, che parlano di una nuova pianificazione nella nostra città, che parla di condivisione, programma che parla davvero di riformulare la nostra città, ripensarla per cercarla di proiettarla verso le sfide del futuro.